Bene, bene, bene. Sto bene anch'io e visto quello che ho mangiato ieri sera non era scontato che oggi io fossi qua, anche Fedez, anche Fedez sta bene, ci siamo sentiti, è stata una serata difficile anche per lui. Vi racconto questa cosa anche perché poi l'ha raccontata, eh, fa momenti di difficoltà per tutti e due, l'ha raccontata anche lui sui suoi social, quindi non è un segreto. Ieri dopo la puntata mi ha mandato un messaggio dicendo sto vomitando dal naso, per dirvi che non stavamo scherzando, ma anch'io sono andato in farmacia, è stata un'esperienza tosta, di solito un ospite che ti scrive che ha vomitato dopo la puntata non è un buon segno, ma in questo caso c'era una giustificazione. Mi raccomando, è stato un momento divertente, se vi piace il piccante potete farlo per farvi due risate, non fatelo di nascosto a qualcuno se no gli cade la lingua, ok? Mi raccomando, fatelo con prudenza. Ma parliamo di Sanremo, il festival della canzone italiana o come è stato definito oggi in Parlamento, un condensato della peggiore ideologia che vuole minare l'identità dell'uomo e della donna. Ma cos'è successo? Ma che cos'è successo? È successo che una parlamentare di Fratelli d'Italia ce l'ha con Rosa Chemical. E già questo fa ridere. Via Rosa Chemical da Sanremo, proteggiamo i nostri bambini. In Parlamento ci sono tante cose da discutere. 41 bis, c'è la guerra in Ucraina, gli anarchici che sono un po' in fermento e lei a un certo punto, questa parlamentare, ha detto fermi, 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 ce l'ho io il tema. Parliamo di Rosa Chemical. E tu, oh bravo, sì! Allora, intanto brava che sai chi è Rosa Chemical. No, ma lo dico seriamente, non è una battuta, perché i politici di solito sono un po' scollegati dalle cose che vanno nel mondo reale, no? Quindi già il fatto che tu sappia chi è Rosa Chemical è un punto a tuo favore. Detto questo, secondo lei era meglio un tempo, no? La tv di un tempo, quando non c'erano questi personaggi un po' ambigui che minavano l'istituzione della famiglia, tipo, non so, Lady Oscar ai nostri tempi, no? Era Andromeda dei Cavalieri dello Zodiaco. Per fare degli esempi. Comunque, la paura della parlamentare è che Sanremo possa trasformarsi, cito, è un virgolettato, nell'evento più gender fluid di sempre. A parte questi cazzi, però, possibile, rivendico che ho fatto l'Eurovision, quindi, ecco, quello forse. E... E non sottovaluterei... Secondo me Sanremo, eventualmente, sarebbe al terzo posto. Eurovision, Melevisione, Sanremo. No, oh, dai, Lupo Lucio, dai, sinceramente, no, sinceramente, al limite, al limite quello. La paura della parlamentare è che il testo, anche poi, della canzone possa minare, come dicevamo prima, l'istituzione della famiglia. Siccome non vogliamo parlare a caso, ci siamo letti il testo di Rosa Chemical, è un testo pubblico, la storia è di un tizio che al lavoro si mette il rossetto e poi ha un menage a trois, una relazione a tre, insomma, quello che succede, quello che può succedere. Però c'è un passaggio del testo che ho individuato e che credo possa essere stato quello che ha fatto un po' arrabbiare la parlamentare. È un testo della canzone di Rosa Chemical. Ve lo cito, ve lo cito. Tenete lontani i bambini dal televisore in questo momento, che a quest'ora pullula di bambini così. Teneteli lontani o tappategli le orecchie. La strofa incriminata di Rosa Chemical a un certo punto dice Baba 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 Di Boom Boom, Baba Baba Di Boom Boom, Bada Bada Baba Di Boom, Bada Bada Di Boom, Bada Bada Di Boom, Bada Bada Di Boom, Boom. Effettivamente lì poteva anche trattenersi un po'. Però, insomma, il problema è che tutti parlano delle cose di Sanremo prima che accadano. Fatele succedere e poi eventualmente le criticate, no? Aspettate di vederle prima di criticare, che è il principio alla base delle recensioni, no? Prima fai un'esperienza e poi ne parli. Vale per tutto, ovviamente vale anche per le recensioni del vostro recensore del cuore, Davide Magnaghi.